Questa mattina una squadra dei Vigili del Fuoco di Lucca è intervenuta a San Vito, al Palazzo Petri, dove da un terrazzo si sono staccati pezzi di intonaco cadendo a terra. Parti di muro sono finite nel cortile. Fortunatamente in quel momento nessuno si trovava sotto e non ci sono stati feriti. I responsabili ATER hanno fatto intervenire i pompieri per la messa in sicurezza, ma gli abitanti del condominio, che ci hanno inviato queste immagini, ormai da mesi denunciano gravi carenze strutturali dell'edificio, problemi che partono già dalla base della struttura con fondamenta e cantine che in inverno si allagano di continuo.